Beni per un valore di 443.000 euro sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine che ha fatto luce su una frode nella riscossione dei ticket sanitari all'aspe di Enna. Il provvedimento ha riguardato tre persone, l'amministratore unico e due gestori di fatto della società catanese affidataria del servizio di gestione integrata del CUP Call Center Riscossione Ticket dell'azienda sanitariennese. Gli indagati dal mese di maggio 2012 al mese di gennaio 2017 si sarebbero appropriati di un importo pari a 685.000 euro. Il reato contestato è quello di peculato aggravato continuato. Coinvolti nell'inchiesta un 42enne di tre mestieri etneo, amministratore della società affidataria del servizio e un 33enne, anche lui di tre mestieri, gestore di fatto della società insieme al terzo indagato. Gli investigatori hanno scoperto che la società in questione inviava regolarmente all'aspe copia delle disposizioni di bonifico apparentemente regolari ma risultate senza versamenti grazie ai controlli effettuati dal personale dell'aspe che ha potuto recuperare solamente parte della somma erogata pari a 242.000 euro, ossia la fiduzione contrattuale incamerata e i residui corrispettivi dovuti per la prestazione contrattuale resa dalla società chiusa un anno fa e successivamente messa in liquidazione. Sotto sequestro sono finiti una villetta, tre mestieri etneo di 203 metri quadrati, un orologio d'oro Cartier, una Fiat 500, nonché 13 quote di partecipazione in otto società. Grazie. Grazie. Grazie.